buongiorno a tutti oggi siamo a Sefro in provincia di macerata nell'entroterra marchigiano siamo presso l'azienda eredi rossi azienda che alleva trote ormai da generazioni e che serve pam con il prodotto a marchio siamo in compagnia di roberto rossi ciao orfeo grazie che ci spiegherà le peculiarità e le caratteristiche del prodotto e della sua azienda le caratteristiche del prodotto pam a parte che sono ormai 20 anni che lavoriamo con voi e siamo cresciuti comunque con voi e abbiamo cercato come caratteristica principale comunque il benessere animale che un pesce sano è un pesce che non ha bisogno di antipiodici per avere un pesce sano bisogna comunque prima di tutto parlare di alimentazione e di che cosa si nutre il pesce bisogna parlare di acque cristalline eppure e non in ultimo fattore molto fondamentale è la bassa densità in cui sono allevate le nostre trote un'altra caratteristica fondamentale sicuramente della trota è con prodotto povero di grasso ma ricco di omega 3 quindi un prodotto equilibrato per una dieta molto sana quali sono i valori che voi condividete con noi di pam sicuramente orfeo uno dei valori principali è la passione per questo lavoro è la terza generazione che alleviamo trote dal 1947 e non in ultimo siamo anche titolari di due mangimifici che ci permettono di controllare l'intera filiera produttiva pam sceglie di offrire in esclusiva ai propri clienti le produzioni contraddistinte da amore per il territorio passione per il proprio lavoro e ricerca istancabile della qualità delle materie prime proprio come la trota panna